Un salone tutto dedicato al franchising e al retail con i grandi marchi italiani ed internazionali. E-Franchising & Retail Expo, fiera internazionale di Asso Franchising, organizzata da Bologna Fiere, in programma dal 28 al 30 aprile del 2016. La manifestazione, alla sua prima edizione, arriverà a Bologna con molti dei marchi più importanti a livello italiano e internazionale. I potenziali imprenditori potranno incontrare i rappresentanti dei brand attraverso colloqui individuali e nei convegni che verranno organizzati. È un nuovo evento molto importante perché è un progetto che ora abbiamo condiviso con Asso Franchising, che è la grande organizzazione in Italia delle reti dei franchising e quindi naturalmente raggruppa e rappresenta tutte le più grandi aziende italiane e non italiane che lavorano in Italia e italiane che lavorano nel mondo e che hanno accettato la nostra idea di realizzare a Bologna, a Bologna Fiere, questa prima edizione di una nuova manifestazione che riguarderà proprio l'incontro delle grandi aziende del franchising con chi vuole aggiungersi, chi vuole creare un negozio, chi vuole inserirsi nelle loro reti e quindi insomma vuole creare nuove imprenditorialità. Sarà una fiera con una anche caratteristica internazionale perché proprio nei giorni della fiera, che sarà nel prossimo mese di aprile 2016, avremo a Bologna per la prima volta in Italia il congresso del World Franchising Council, che è l'organizzazione mondiale del franchising dove sono presenti 50 paesi. Bologna Fiere e Asso Franchising hanno firmato un contratto che rilegherà per 5 anni per una fiera che ha l'obiettivo però di essere annuale. Per il prossimo aprile intanto la manifestazione ospiterà il meeting annuale del World Franchise Council, l'organismo mondiale del franchising. L'organismo mondiale del Snapchat Sfitto Sfitto Sfitto